Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio dei duetti, siamo qui con Sofia Marchionno, che ci aiuterà a cantare questa canzone che è Il mondo è mio di Adaline. Wow! Bene ragazzi, prima di andare avanti con questo video, io vi ricordo di iscrivervi a questo canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella così ogni qualvolta esce un video nuovo vi arrivi una notifica e potete guardare subito il video. Bene Sofia, andiamo alle voci. Bene, all'inizio questa canzone canta soltanto il maschietto, diciamo così, e quindi tutta la parte da soli, non la canteremo, cioè quando c'è solo lui o solo lei, quindi andiamo direttamente quando ci sono le risposte, quindi proprio quando entra Jasmine, ti fiedi? Sì, sì. Ok, vediamo. E' sorprendente accanto a te, se salgo un filo su, poi guardo un giorno, che dolce sensazione nasce in me. C'è una sensazione dolce in te. Quindi nel momento in cui lei fa... Che dolce sensazione nasce in me. C'è una sensazione... Qua le voci si accavallano. Quindi non vi fate confondere dalla voce che rimane, ma voi cercate di essere sempre... Voi maschietti, cercate di essere sempre a tempo. Quindi che dolce sensazione nasce in me. C'è una sensazione dolce in me. Ogni cosa che ho, anche quella più bella, non vale la stella che fra poco toccherò. Il mondo è mio. Apri gli occhi e vedrai. Ok, anche qui la stessa cosa, ci sono tante risposte. Il mondo è mio. Apri gli occhi e vedrai. Tra mille ti amanti farò. La tua notte più bella. Con un po' di foglia e di magia, tra stelle come te farò. Ok, poi da qui i ruoli si invertono, quindi la parte principale ce l'avrà Aladin. E poi ci sono le risposte di Jasmine. Quindi... Il mondo è tuo. La voce di essere sarò. La nostra parola sarò. Ma se questo è un mio sogno, non tornerò mai più, mai più là-ciù. È un mondo che appartiene a noi. Questo è quello che fa la voce femminile. Mentre Aladin fa... È un mondo che appartiene a noi. È difficile però. Sentite bene. Facciamola di nuovo un po' prima, dal ritornello. Il mondo è tuo. Il corpo c'è e se sarò. La nostra parola sarò. Ma se questo è un mio sogno, non tornerò mai più, mai più là-ciù. È un mondo che appartiene a noi. Avete sentito questo effetto? È un mondo che appartiene a noi. Mentre Jasmine... È un mondo che appartiene a noi. Bravissima. Andando avanti... Soltanto noi... Per me e per te... Ti aiuterà... Ti svalirà... Solo per noi... Solo per noi... Per te e per me... Quindi lei fa... Per te e per me... E lui... Per te e per me... Insieme è... Per te e per me... Ok. Insomma, speriamo si sia capito un po' bene tutto, però credo di sì. Sì. Io ringrazio Sofia Marchionno... Grazie a te. Per averci fatto da Jasmine. E quindi che dire... Ci vediamo... Alla prossima puntata. Ciao ciao!